Nei giorni scorsi il questore della provincia di Ragusa in esita all'istruttoria espletata dalla divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura in seguito alla proposta del commissariato di Polizia di Vittoria ha emesso un provvedimento di sospensione di sette giorni dell'autorizzazione amministrativa relativa alla sospinistrazione di alimenti e bevande con conseguente chiusura al pubblico del locale nei confronti del titolare di un barsito nel comune di Vittoria. Tale provvedimento si è reso necessario poiché recentemente all'interno del pubblico esercizio si era originata una rissa tra quattro componenti di due distinti nuclei familiari proseguita poi all'esterno del locale con reciproche aggressioni fisiche e l'utilizzo improprio di varie arredi, siti sulla pubblica via quali corpi contundenti determinando una concreta turbativa all'ordine pubblica e dalla sicurezza dei numerosi cittadini che avevano assistito all'evento. Il locale e le pertinenze dello stesso tra l'altro così come accertato a seguito di ripetuti e mirati controlli svolti nel territorio dagli agenti del commissariato di Vittoria erano divenuti punto di incontro di pregiudicati e persone gravate da provvedimenti di polizia. Con il suddetto provvedimento del questore si è posto a un freno a una situazione che costituiva un potenziale pericolo per il regolare mantenimento dell'ordine della sicurezza pubblica essendo divenuto quell'esercizio commerciale un luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati e pericolosi.